Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 rallentamenti per materiali dispersi tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. Sulla A12 per lavori code a tratti tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. Sulla FIPILI per traffico intenso. Code tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Code in uscita a Scandici in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!